Ti piace? Tirami su. Oggi ne faccio uno che ti faccio accappottare. Anzi, ho famo insieme a Giulia. Un chilo di mascarpone. E 300 grammi di panna. Andiamo a montare leggermente la panna e rendiamo cremoso il mascarpone. Oh, se non c'è la seconda ciotola, ti tocca la palla. 300 grammi di tuorli pastorizzati. E 300 grammi di zucchero. Ora montiamo tuorli e zucchero. Ma quando è pronta? Quando lo devi così. Mascarpone aggiungiamo e la panna. Mi raccomando, pulisci sempre. Quanto è buono il samoyardo così. O il pan di spagna, con il caffè, sennò quando ti svegli. Sì, ma noi vogliamo con te. Ci mettiamo pure il cioccolato dentro. Io devo provare. Guarda, merito. Tagliali che c'entrano meglio. E andiamo con la crema. Ah, cioccolato. E' bello quando hai il sozzio di dita qua. Te lecchi tutto, te lecchi. Cacao amaro in polvere. E cioccolato da tocchetti. Non tommo mangiare subito. Aspetta due ore in frigo, è ancora più buono. Mmm, mmm. Questo di caffè, buono. Ha giù. È fatto proprio buono, ammazza che buono, ragazzi. Uuuuuh.